Boom è il record di domande per Unical Admission, il bando d'ammissione dell'Università della Calabria, riservato agli studenti dei paesi esterni all'Unione Europea. Sono state infatti 9.300 le candidature pervenute, provenienti da 108 paesi diversi su 240 posti disponibili per i corsi di laurea magistrale e biennale. A renderlo noto è lo stesso Ateneo Calabrese. Questi dati, è scritto in una nota, testimoniano il grande apprezzamento per le lauree magistrali internazionali. Quasi 7.000 infatti sono state le domande di ammissione per le 10 lauree magistrali erogate in lingua inglese. Grande interesse anche per i 30 corsi magistrali in lingua italiana, per i quali sono state presentate più di 2.000 domande. È stata una scelta strategica vincente, afferma il rettore Nicola Leone, quella di puntare sull'attivazione di lauree magistrali internazionali erogate in lingua inglese. Leone ricorda anche che le domande pervenute lo scorso anno accademico furono 5.300, con l'ammissione che includeva però anche lauree triennali e magistrali a ciclo unico. I bandi di ammissione, lo ricordiamo, arrivano da ogni parte del mondo. Cina, Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Canada, Cuba, India, Egitto, Sudafrica, Indonesia, Arabia Saudita e Pakistan.